Arriva un'altra buona prestazione del volley soverato che nel match valevole per la quarta giornata della pool promozione non sfigura affatto al cospetto del più quotato Itas Trentino cedendo solamente 1-3 al termine di una partita palpitante e vibrante con i parziali di 20-25 26-24, 28-30, 15-25 La formazione bianco-rossa sfida a viso aperto la vice capolista della pool promozione giocando una partita con grande tenace e carattere al cospetto dei più quotati avversari che ovviamente lottano per il salto di categoria La formazione di coach Chiappini ha disputato una buona gara anche in virtù del fatto che è andata subito sotto nel punteggio ed è riuscita prima a recuperare per poi giocarsi punto a punto il terzo set che è quello che di fatto ha segnato la differenza nel match Alla fine la squadra ha ceduto per 3-1 ma sicuramente il gioco dimostrato e la prestazione offerta così come quelle precedenti lasciano ben sperare anche per il futuro Alla fine la squadra!